Andrea che città è questa in questi giorni? è una città spettrale e perché voi siete al lavoro? perché il comune ce l'obbliga che problema c'è con i turni? quanti taxi ci sono a Roma in questo momento? adesso ci sono una riduzione del 33 per cento e quindi quante macchine 33 per cento 2600 macchine siamo circa 8.000, 2.600, 7.800, 2.600. si lavora? niente 85, 90 per cento quello che è calato da ora crollato senti attrezzature come guanti, mascherine e sanificazione per le auto come vi state regolando e come vi state organizzando? tutto a spese nostre noi stiamo urlando alle istituzioni di venirci incontro con queste cose perché siamo poi obbligati di pulire le macchine, sanificarle, mascherine, guanti però le istituzioni non ci pensa proprio lontanamente di venirci incontro trovate questi presidi? dove? come? chi è un amico, chi è riuscito prima quando si è riuscito a prendermi in farmacia i guanti, adesso non c'è più nulla, non esiste più niente chi sono i vostri clienti in questi giorni? giusto la vecchietta che devo andare a fare una visita all'ospedale o qualcuno che deve essere obbligato a lavorare e che non può lavorare da casa ma è pochissima gente che non ha chiudere il taxi i controlli ne vedete? alcuni sì, più del... adesso attualmente più del... secondo lei i romani sono rimasti a casa in questi giorni alla fine si sono arresi si, si sono arresi ci sta ancora un... diciamo un 10-15% che ancora... si credono Highlander che non... che non... che non gli succeda niente però... non c'è una carta a capito che deve stare a casa servizi in ospedale? dai per gli ospedali? si, noi lo facciamo sempre sempre in continuazione in continuazione dopo le 9 di sera quando l'Atac smette di funzionare voi che tipo di clientela incontrate? chi... chi... adesso dopo... adesso nessuno chi gira? non gira più nessuno proprio per questo l'Atac ha smesso di funzionare non... proprio che chi si è dimenticato una cosa urgente che non può fare a meno ma... non prende nessuno il taxi nessuno non siamo ore fermi i parcheggi due, tre ore, quattro ore dai... dai...